Sono Scaravelli Cesare di Ponte 21, rappresento la ditta Scamma Agricoltura SNC, siamo io, mio fratello e mio papà, lavoriamo nella provincia di Mantua come conto terzi, facciamo lavori di manutenzione per la provincia di Mantua, consorzio di bonifica e agricoltori. Lavorando tanto con gli sfalci sia in agricoltura che sulle strade, cercavamo una macchina professionale e affidabile e consigliati dal concessionario Kuhn abbiamo preso il Prolonger e siamo stati molto soddisfatti. Una cosa che ci ha fatto scegliere il Prolonger è il sistema Stabilink che permette di attaccare e staccare la macchina in dieci minuti una persona da sola e permette anche di essere più stabile la macchina sia in lavoro che sia in trasporto, anche in lavoro a sbraccio massimo. Grazie alla sua geometria del braccio e il telescopico permette di passare a cavallo dei cartelli stradali o qualsiasi ostacolo senza smettere di lavorare con la testata. Grazie al suo sistema di pulizia automatica del radiatore ti permette di lavorare senza manutenzione del piatto di raffreddamento. Il punto di forza della testata del Prolonger è la trasmissione a cascata di ingranaggi che occupa meno spazio rispetto a quella tradizionale a cinghia. È facilmente utilizzabile dall'operatore e dalla cabina grazie al suo joystick in dotazione. Il Prolonger mi permette di lavorare le siepi perché mette la testata in posizione verticale molto ravvicinata al trattore. Posizione di trasporto è una macchina molto compatta con il peso verso il trattore che la rende molto stabile in trasporto. Dopo due anni di lavoro consigliamo il Prolonger a qualsiasi azienda che voglia una macchina professionale ed affidabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.